Insieme diamo forma al futuro della nostra regione Alto Adige come destinazione turistica. Come garantire il suo successo duraturo nel tempo. Renderla ancora più desiderabile e sempre più conosciuta. Sviluppare ulteriormente prodotti di successo. Usare una comunicazione efficace e coordinata. Fare ancora più networking, scambiando le conoscenze ed esperienze. Insieme gettiamo le basi del successo duraturo del turismo in Alto Adige.